in cammino con gesù un ritiro quaresimale di 5 10 minuti per le persone in movimento a cura della commissione cultura e comunicazione parrocchia san paolo cagliari trova un posto o uno spazio che ti offra un po di tranquillità prenditi un momento per essere consapevole di essere la presenza amorevole e vivente di dio mio dio so che tu mi vuoi bene aiutami a trascorrere questi pochi momenti con te in riflessione orante concedimi di percepire tutto ciò che desideri suscitare nel mio cuore per aiutarmi a mantenermi ben saldo con i piedi per terra legge attentamente in preghiera la riflessione offerta per il giorno fino a quando una parola o un'idea emerge lentamente o attira la tua attenzione tornando in sé penso mi alzerò e andrò dal padre mio e gli dirò padre ho peccato contro il cielo e contro di te non merito più di essere chiamato tuo figlio gesù tu mi offri questo tempo quaresimale come opportunità per rientrare in me stesso per tanti motivi non merito di essere figlio di un papà così buono insegnami l'umiltà per riconoscere le mie vie peccaminose e mostrami la via di casa che mi riporta verso l'abbraccio del padre nel silenzio parla con dio di tutto ciò che ha suscitato nel tuo cuore rimani in preghiera silenziosa per un po mentre il tuo tempo di preghiera volge al termine esprimi il tuo grazie per la presenza amorevole di dio con te durante questo tempo di preghiera e in ogni momento scegli una parola o una frase della tua preghiera e custodiscila nel tuo cuore mentre svolgi le attività della tua giornata in questo modo puoi rimanere raccolto e concentrato anche in mezzo a tutte le tue attività grazie a tutti grazie a tutti